Ciao a tutti e benvenuti. Non era stata una passeggiata di salute l'operazione di Simon Kier nello scorso mese di dicembre. Lo si era capito da come era rimasto a terra dopo il tentativo di accelerazione da parte del Genoa nel suo tentativo di intervento, credo, su Cambiaso. E lo si è capito soprattutto dal momento del comunicato ufficiale che il 3 dicembre 2021 il Mian aveva fatto sul nazionale danese che era reduce proprio da Parigi dove aveva ricevuto un importante riconoscimento per il suo ruolo fondamentale svolto nel salvataggio di Erikson all'Europeo il 12 giugno del 2021. Nel comunicato ufficiale del Milan si era parlato di ricostruzione del legamento crociato anteriore e di reinserzione del legamento collaterale mediale. Per cui una ricostruzione e una reinserzione. Normale che il Milan seguisse con particolare attenzione l'evolversi della vicenda del recupero di Simon Kier perché naturalmente oltre all'affetto, alla stima e alla riconoscenza nei confronti del giocatore, testimoniata dalle dediche che gli fecero che si esale makers al momento dei due gol il 4 dicembre dell'anno scorso, il giorno dopo l'operazione di Simon segnati a San Siro con la Salernitana, ma c'era soprattutto da seguire la possibilità di continuare a fare progetto su Simon Kier al di là della sua età. Età che per difensori come Chia era successo in passato anche per Costa Curta va certamente tenuta in conto, ma si tratta di giocatori di lettura più che di strapotere fisico. Negli ultimi anni di carriera a Milan Costa Curta sembrava ancora più forte di quando era giovane perché aveva aumentato le sue capacità di interpretazione e di lettura delle situazioni difensive. Ed è un po' una caratteristica anche di Simon Kier, poi giocatori diversi, epoche diverse, situazioni diverse, però l'età che sempre conta e va sempre tenuta d'occhio, incide relativamente sul rendimento della prossima o delle prossime due stagioni da parte di Simon Kier proprio per questa tendenza che hanno alcuni giocatori, alcuni difensori a sviluppare più il senso della posizione che la richiesta al proprio fisico di intervenire pancia a terra, all'arma bianca dal punto di vista sportivo su ogni palla. E quindi con le valutazioni da fare sul recupero di Kier erano probabilmente nate le prime esigenze di rendere l'operazione di mercato del difensore prioritaria. Oggi invece con le garanzie che sta dando allenandosi tutti i giorni in gruppo a Milanello Simon Kier e con la particolare cura con cui è stata fatta la sua riabilitazione, evidentemente una riabilitazione particolare come quella di Simon che è stata fatta senza frettare i tempi, che è stata fatta senza forzature, operazione il 3 dicembre, sono passati ormai otto mesi dal momento, più di otto mesi dal momento che siamo all'11 luglio del 2022. con tutto questo tempo che è passato il Milan ha costantemente monitorato dal punto di vista medico, dal punto di vista atletico, dal punto di vista fisico e della condizione complessiva il ritorno al campo, il ritorno al calcio di Simon Kier. Per cui oggi Simon Kier fa parte a tutti gli effetti della nostra difesa, anche se naturalmente le amichevoli, il campo, le situazioni andranno testate. Certamente Simon Kier è un giocatore da gestire, leggevo questa mattina sui giornali Dura chiedergli tre partite alla settimana, vero? Ma era così anche prima, anche quando Simon Kier veniva celebrato, anche quando Simon Kier veniva identificato come uno dei componenti della campagna acquisti del gennaio 2020 che è servita a rilanciare a riposizionare il Milan, si dice sempre Ibrahimovic Kier sale makers, il suo riscatto a luglio del 2020 era stato salutato con tanti applausi dal tifo rosso nero. C'è sempre qualche perplessità su Simon, Simon quando è arrivato dall'Atalanta era stato vissuto come un insulto dai tifosi. Abbiamo sbagliato due volte sia a dare Caldaro all'Atalanta che a prendere Kier al Milan, era stato il verdetto dei social, era stato il punto di vista anche di chi scrive qui. Poi Simon ha saputo sul campo risalire la corrente, rimettersi nella posizione giusta e dimostrare che al Milan c'è sempre una soluzione. Se ben ricordate Musacchio che era stato inseguito a lungo nell'estate del 2016 da parte del Milan, che era arrivato nell'estate del 2017, che era molto quotato, era il titolare pressoché indiscusso del Milan. E invece partita dopo partita Pioli da chance a Kier. Kier e Romagnoli è stata la coppia difensiva centrale del Milan per tanto tempo. Sembrava che Tomori arrivasse soltanto per completare a livello numerico la rosa nel generale 2021 e invece Tomori ha avuto le sue chance, ha avuto la sua possibilità di diventare titolare. Ci siamo lasciati praticamente con Kier e Tomori, poi l'infortunio di Kier, è tornato Romagnoli ma è cresciuto Caluno. Quindi siamo passati praticamente dal Milan primo in classifica a dicembre 2020 con la coppia titolare difensiva indiscutibile Kier e Romagnoli al Milan dello Scudetto con la coppia difensiva titolare indiscutibile Caluno Tomori. Quindi il Milan è questa cosa qua. Il Milan è una realtà in continua evoluzione e quello che accade dentro la rosa del Milan non passa mai inosservato agli occhi di Stefano Pioli, agli occhi dell'area tecnica. Si valutano i progressi e le situazioni di tutti, non si lascia mai nessuno per strada ma si cerca anche di capire correttamente quello che ciascun giocatore può dare. Per cui se sul mercato ci sarà l'opportunità siamo praticamente tornati al mercato di gennaio. Al mercato di gennaio noi avevamo a disposizione sostanzialmente Tomori, Romagnoli, Caluno e Cappia. Oggi abbiamo Tomori, Kier, Caluno e Cappia. Quindi siamo praticamente tornati alla situazione del mercato di gennaio. A gennaio si era deciso non ci sono grandi occasioni di mercato, valorizziamo i nostri, bisognerà vedere che cosa si decide che cosa si decide in estate. È chiaro che a gennaio avevi davanti metà stagione, adesso invece è davanti tutta una stagione, una stagione che sarà molto dura. È altrettanto vero che questa volta il mercato invernale arriverà non dopo 4-5 mesi di calcio ma dopo due mesi e mezzo, tre di calcio, dal momento che partiamo a metà agosto e finiamo a metà novembre. Quindi ci saranno più partite per rimediare, però sono situazioni che vanno soppesate. Il Milan non si farà forzare la mano, non si farà prendere la mano se ci sarà l'occasione per prendere un difensore per completare la rosa, lo si farà, altrimenti lo status quo in questo momento è che abbiamo quattro difensori e da quelli si riparte per le valutazioni. Poi se non dovesse arrivare un difensore ci sarà qui evidentemente l'ondata delle proteste, ma sapete che al di là delle legittime esigenze di tutti i tifosi, al di là del rispetto che si deve alle posizioni di tutti i tifosi, poi il Milan dà appuntamento ai suoi tifosi, sempre e solo in un posto, sul campo, senza farsi forzare o prendere la mano. Cosa che è importante perché fare le cose magari di cui non si è convinti soltanto per un nome nuovo, soltanto per la piazza, anche se la piazza, la nostra piazza, la nostra gente, i nostri tifosi sono molto importanti, è una cosa che questo Milan ha scelto di non fare, per cui vedremo quello che accadrà. Se ci sarà un'opportunità di rilievo, non mi sento di poterlo dire di allò a 30 milioni di euro, se ci sarà un'opportunità saranno felici i tifosi del Milan di avere un giocatore in più con cui rimpolpare la rosa dei difensori centrali e il Milan che potrà sfruttare un giocatore in cui crede. Altrimenti i primi quattro difensori centrali per cominciare la stagione ci sono e si vedrà poi cammin facendo. Questo mi sembra lo scenario alternativo l'uno rispetto all'altro. Poi nel pomeriggio affronteremo le situazioni varie di mercato, così come sembra si stiano dipanando in questo lunedì 11 luglio, tenendo conto del fatto che il mio obiettivo nelle chiacchierate con voi è di cercare di rendere sempre un servizio, di dare sempre uno stato dell'arte che poi, lo vedremo questo pomeriggio, mi sembra che qualche giorno dopo poi trovi rispondenza sui quotidiani. Ed è questo il servizio. Se un canale YouTube deve diventare un canale che o arrivi in onda con un nuovo acquisto o stai zitto, mi sembra un po' ingeneroso e un po' infantile. A più tardi.